benvenuti a tutti i nostri ascoltatori di web live tv oggi abbiamo in studio domenico e ci racconterà la nascita di un bellissimo progetto che riguarda il nostro territorio domenico parlaci un pochino di questo nuovo progetto il progetto è la nascita di una condotta slow food una condotta slow food è un punto d'incontro del delle persone che amano il territorio e che amano il il nostro il nostro slogan principale che è cibo sano pulito e giusto per tutti e quindi solo food nasce per garantire per garantire questi tre questi tre diritti fondamentali a tutte le popolazioni del mondo solo food è una organizzazione internazionale che ha le diramazioni in tutto il mondo e che raccoglie i piccoli agricoltori le gli artigiani le persone che amano che amano il il proprio territorio e pensano di valorizzarlo con la diffusione di buone pratiche agricole di buone anche di buone pratiche della vita quotidiana di ognuno di noi che piccoli cambiamenti che ognuno di noi può fare per cambiare radicalmente il nostro mondo e riportarlo a un po alla alla sua origine di 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 terra madre da cui tutto è nato e da cui tutto tutto deve deve tornare domenico hai nominato terra madre questo progetto riguarda non solamente il territorio nazionale ma anche mondiale giustamente certamente ok e che cosa include terra madre con il nostro territorio beh terra madre terra madre è la definizione stessa no è la madre di tutti noi c'è la terra è la madre dove c'è la vita dove c'è c'è nato è nato il l'essere umano dove c'è dove nascono le nostre produzioni che che consumiamo dove vivono i nostri animali che popolano il pianeta terra madre è il tutto del mondo e quindi si parte da questo tutto che è mondiale per arrivare al nostro pezzettino di mondo che ogni il mondo è composto da tanti pezzettini che ognuno va in qualche modo custodito coltivato e sviluppato nel percorso giusto che è quello della della del rispetto della della nostra terra della del nostro del nostro mondo e quindi partendo da qui terra madre arriva arriva fiumicino arriva fiumicino dove in realtà parte da fiumicino perché fiumicino è un territorio che esprime proprio la diciamo la ricchezza del del pianeta perché c'è il mare c'è la terra c'è l'agricoltura ci sono i boschi è un posto dove c'è anche l'urbanità c'è anche l'urbanizzazione dell'uomo che è evidente come in tutti come in tutto il mondo ma soprattutto come nelle aree di periferia delle grandi città è uno sviluppo che ha creato dei problemi e comunque è stato poco governato e quindi è diventato è diventato un problema noi terra madre è un grido di disperazione che lascia che lancia in alcuni in alcuni territori perché abbiamo diciamo devastato e consumato tutto tutto il suolo il suolo utilizzabile noi come come condotta di slow food di fiumicino intendiamo lanciare da qui una battaglia per preservare il lo strato superficiale fertile del terreno per noi la fertilità del suolo è la base della vita e quindi da qui lanceremo anche una proposta che abbiamo già anticipato al regionale e la faremo fare nostra di promuovere il lumus come patrimonio dell'umanità cioè nel senso dire che quei 20 30 centimetri di superficie terrestre sono la base della vita e non dobbiamo consumarla non dobbiamo deturparla più di quello che abbiamo già fatto ora bisogna recuperarla qui bisogna lavorare sulle incidere sulle abitudini degli agricoltori ma anche di noi cittadini cittadini comuni che dobbiamo dare valore allo sforzo di chi di chi si sforza appunto di chi mette in atto pratiche che sono pratiche culturali ma culturali e culturali per favorire questo questa fertilità del suolo che è che è la base della nostra vita ok allora da qui abbiamo capito che slow food ma anche il nome stesso lo dice non parla solamente di cibo ma parla anche di altre tematiche dico ben domenico certamente slow food ha una visione ha una visione a 360 gradi della vita umana e della vita del pianeta perché i due elementi non sono assolutamente connessi e quindi nella connessione di questi due elementi c'è c'è il tutto c'è il tutto che significa c'è l'agricoltura ovviamente ma c'è la pesca che qui a fiumicino è uno degli elementi importantissimi dove abbiamo la più grande flotta del del di pescherecci del del dell'area del mediterraneo del meno della costa della costa italiana dopodiché c'è c'è tutto quel mondo che gira intorno a questi due elementi agli elementi fondamentali che come la ristorazione qui a fiumicina abbiamo un numero impressionante di ristoranti che accolgono accolgono con piacevolezza tutti quanti i romani che principalmente romani che il fine settimana vengono a popolare le nostre coste ci sono i stabilimenti balneari che sono un numero fiumicino a 22 chilometri di costa popolata che si popola ogni sabato ogni domenica ma anche durante durante la settimana si popola di persone che amano il mare e che amano venire venire dalle nostre parti per trovare trovare un po di di natura noi questo dobbiamo dare fiumicino questo deve dare al mondo al diritto al dovere di farlo perché è un comune che ha queste ricchezze che deve deve salvaguardare ma deve anche saperle offrire a chi le apprezzerà con 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 cura perché secondo me una parola importante che dobbiamo instillare in tutti noi è la cura la cura delle persone perché la pandemia ci ha insegnato che se non ci curiamo non 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 ce l'è per nessuno la cura dei luoghi la cura delle dei propri affetti dei propri cari ma la cura del proprio del proprio pezzettino di giardino anche la cura del proprio pezzettino davanti al proprio cancello del pezzettino di strada ci sono tante esperienze qua fiumicino di ragazzi che si muovono per pulire pezzi di di spiaggia pezzi di strade dobbiamo cercare di favorire sempre di più questi atteggiamenti virtuosi che solo questi atteggiamenti virtuosi possono veramente cambiare il cambiare il cambiare le cose riportarci su quello che poi diciamo la pandemia ha evidenziato in maniera molto chiara che se che se senza un mondo che funziona un mondo equilibrato è veramente veramente rischiamo rischiamo grosso e quindi dobbiamo assolutamente ritrovare quelle quell'armonia e slow food e c'è solo un modo per farlo lo slow c'è il modo slow che significa vivere vivere quel quel momento e viverlo intensamente che è il momento del momento della pulizia ma il momento dello svago è il momento della nutrizione perché la nutrizione non è soltanto al ristorante diciamo la visione anche quando a casa si mangia insieme e quindi c'è il momento bisogna cercare di trovare di più il momento di consumare il passo in famiglia dove dove c'è l'incontro fra i genitori i figli dove c'è il momento di scambio come era una volta una volta a tavola si le famiglie facevano facevano il ruolo di educazione ruolo di rapporto quindi dobbiamo declinarlo declinare lo slow in nel nostro territorio dove alcune aree sono già molto slow e quindi bisogna soltanto valorizzarle e riportarle e portare fiumicino diciamo a essere una città slow appetibile per fare una vacanza per fare un per venire a pranzo ma anche per noi cittadini fiumicino per stare sereni e vivere una 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 località le nostre località che sono che sono tante innumerevoli con con differente differentissime necessità se pensiamo fra tragliata e passo scuro passano pochi chilometri di strada ma sono due mondi totalmente differenti stesso se parliamo di so fra isola sacra e fiumicino sono due strutture urbanistiche e due elementi molto differenti queste differente queste differenze possono essere una ricchezza per fiumicino non possono più essere un ostacolo perché quando differenze si scontrano e non trovano i punti di di contatto diventano diventano delle delle negatività invece noi vogliamo trovare le positività di queste di queste esperienze infatti domenico questa pandemia ci ha colpito a livello globale come ben sappiamo e ci ha insegnato e ha fatto anche nascere appunto dei progetti come appunto la condotta slow food dell'agro e dell'itorale di fiumicino grazie marica certo sì slow food di fiumicino la condotta slow food di fiumicino è nata e germogliata nel periodo della della pandemia dove appunto ci siamo trovati a qualche modo da riflettere su su noi stessi i nostri comportamenti anche una riflessione molto intima di ognuno di noi e soprattutto delle persone che poi hanno hanno collaborato collaborato alla nascita della della condotta quindi sì lo dobbiamo io credo che lo dobbiamo anche a tante persone che hanno sofferto e che hanno e tanti che purtroppo ci hanno lasciato in questo in questo lungo periodo perché perché per far sì che questo e tutto questo non sia solo solo dolore ma sia anche rinascita dobbiamo in qualche modo rimetterci in pista in pista tutti quanti in pista per il bene di tutti per il bene comune perché slow food è tutela del bene comune partendo appunto da terra madre ma anche da tanti altri strumenti che che slow food ha messo in piedi e che sicuramente interesseranno il nostro territorio come l'alleanza dei cuochi che è un'alleanza che qui a fiumicino ha avuto un'esperienza importante dal 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 nostro amico carmine di bianco che è rimasto sempre di slow food e col suo col suo ristorante ha da sempre portato avanti questi questi temi dobbiamo c'è i mercati della terra qui alcuni fiumicino manca un mercato della terra con tutti i produttori che abbiamo manca un mercato un mercato cui i nostri cittadini possano approvvigionarsi direttamente dai nostri produttori quindi su quello stiamo lavorando devo dire che da pochi mesi dalla nascita anche con l'amministrazione abbiamo abbiamo installato relazioni interessanti e l'ascolto da parte della dell'amministrazione è alto quindi tutti quanti credo abbiano hanno capito che è il momento di agire e non è più il momento di di stare fermi e quindi diciamo è nata è nata questa condotta da un gruppo di amici che con le che e raccoglie una serie di esperienze e tante competenze che che ci sono sul nostro territorio che hanno deciso di mettersi in pista per il nostro per il nostro con il nostro progetto ci abbiamo abbiamo costituito una un'associazione che appunto come prevede lo statuto nazionale di slow food e l'associazione ha un comitato un comitato esecutivo che appunto previsto dallo statuto e saremo composto da sette persone che mi hanno nominato fiduciario e quindi diciamo legale rappresentante di questa esperienza però insieme a questo comitato esecutivo che è un po diciamo la cabina di regia delle attività abbiamo deciso tutti insieme di costituire un comitato tecnico che è che esprime le esperienze e le competenze di ognuno quindi abbiamo la nostra amica nadia calzetta che si occupa perché è biologa e che si occuperà dei biologi e sta e sta terminando gli studi in biologia marina qui si occuperà dei temi del mare del fisce del presidio dell'atellina già abbiamo nell'esperienza del dell'archeologa giovanissima molto brava tania d'ortenzio di focene che ci aiuterà nei temi dello slow travel che anche qui il turismo il turismo lento è un potrebbe diventare un volano di sviluppo del nostro territorio straordinario proprio perché dobbiamo dobbiamo cercare di far venire da roma anche in bicicletta oppure utilizzando il treno con la bicicletta e l'ultimo miglio farlo farlo con le ciclabili che ci sono e che vanno e che vanno anche presidiate ancora terminate insomma diciamo c'è questo questo tema importantissimo poi abbiamo delle esperienze delle esperienze interessanti anche nel tema della 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 comunicazione che è un tema importantissimo che appunto c'è c'è marica che si occupa di questo qui c'è c'è jacopo jacopo che si occuperà della parte social perché è vero che siamo slow ma è vero che lo slow è anche che anche un elemento social perché bisogna saper saper navigare in maniera slow e quindi approfondire conoscere e informarsi quindi è un tema importante e in questo tema importante poi troviamo ci troviamo qui apposta negli studi negli studi di web live tv per con cui stiamo costruendo una bellissima loro lo chiamano il ponte abbiamo costruito il primo ponte e che a me piace molto come come definizione abbiamo così un primo ponte con un con uno strumento di comunicazione importante sul territorio che vogliamo a cui vogliamo vogliamo lavorare con cui vogliamo lavorare molto perché crediamo appunto che questi piccoli incontri possano consentire di far nascere ancora nei cittadini l'interesse e curiosare nei nostri social e magari venire a chiederci qualche qualche informazione o magari associarsi a slow food per dare ognuno il proprio il proprio contributo vero domenico ha nominato me ma anche iago che appunto nella condotta slow si occupa di social media ma oltre a noi due ci stanno anche tantissimi ragazzi molto giovani in questa condotta infatti è una cosa penso bellissima che non solo la parte meno giovane della condotta si attiva ma anche quella più giovane che appunto va ad abbracciare i giovani di fiumicino che si stanno avvicinando sempre con più curiosità a questi progetti come slow infatti ci sta rice che si occuperà di inglobare nella nostra condotta i licei del litorale alberghieri e non solo poi c'è anche roberto che si occupa con il suo blog di vino e di birra anche ma a livello di cibo e del feberoncino diciamo che slow food non è solo come detto tu prima i pilastri di fiumicino storici ormai ma anche la gioventù e questo è importante giusto e però mi è giunta la voce che ci sarà un evento ufficiale il 31 marzo mi racconti un attimino di questa cosa sì marica certo la nostra attività appunto sarà sarà varie di varia natura di varia di varie varie iniziative inizieremo inizieremo con un'iniziativa secondo me molto bella che presenteremo un libro un libro che sono ricette si chiama ricette rurali e che è stato costruito in un percorso enogastronomico fatto in italia con vari agriturismi italiani che dove riporta alcune ricette ma riporta soprattutto tutte le indicazioni geografiche le dop tutti gli elementi tutti i diciamo i prodotti della nostra del nostro della nostra penisola questo libro è stato stato prodotto da slow food dalla confederazione degli agricoltori in partnership e quindi lo presenteremo ma lo presenteremo in un modo secondo me un po originale e anche molto molto importante perché nel nostro nel nostro slogan c'è cibo buono pulito e giusto e quindi la parola giusto la parola giusto è per noi diciamo è centrale perché giusto nei rapporti del terreno del territorio giusto nei rapporti di lavoro giusto nella nella giustizia in generale quindi noi questo libro lo presenteremo dalla biblioteca comunale di villa guglielmi che come sapete è intitolata giulio reggeni la tragedia giulio genia una tragedia mondiale di ingiustizia e quindi lo faremo in collegamento con un agriturismo di fiumicello fiumicino fiumicello è un bel è un bel ponte dove in questo agriturismo ci saranno presenti i familiari di giulio e quindi e presenteremo questo libro parlando partendo dalla parola giustizia e quindi diciamo il 31 31 marzo è prevista questa iniziativa a cui speriamo di far vedere tanti partecipanti importanti e meno importanti ma tanti partecipanti a parlare di di giustizia di di cibo buono pulito e giusto proprio che il nostro che è il nostro appunto di il nostro punto di partenza quindi vediamo sicuramente la web live tv ci darà una mano per far sapere a tutti quanti le date i dettagli le cose tu marica sarai sicuramente impegnata nelle 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 nella stampa nella stampa e quindi dovremmo dovremmo avere un buon un buon successo di di riconoscere di riconoscimento e lì ci presenteremo anche presenteremo anche i partecipanti al gruppo tecnico e forse riusciremo anche a lanciare qualche piccola qualche piccolo seme su un altro progettino che abbiamo in mente che è quello di costituire anche un comitato scientifico come da scientifico sia persone che hanno delle grandi competenze messe a disposizione per il nostro territorio quindi stiamo lavorando anche per avere alcuni contatti con personaggi di importanti appunto che hanno queste grandi competenze per avere per portare qui anche competenze perché il fiumicino serve serve tutto per essere un comune slow un comune attraente e per favorire nostra nostra economia e quindi serve servono anche grandi competenze per fare questo perché il fiumicino è un elemento che è una città che ha veramente veramente tantissimo perché se la paragoniamo a qualsiasi altra città d'italia vediamo che ce ne sono poche come noi noi abbiamo le più grandi aziende agricole noi abbiamo il più grande territorio agricolo dopo roma del del lazio come territorio abbiamo la più grande marineria abbiamo l'ampiezza di coste che forse nessun comune d'italia ha 22 22 chilometri di coste abbiamo mi sembra 600 400 adesso non ricordo bene il numero di ristoranti quanti città d'italia hanno questa ricchezza e non è e questa è una ricchezza importantissima per non parlare poi di di altri elementi di altri elementi qui la storia qui è nata la storia nel nostro nella nostra località torri in pietra nel castello torri in pietra è nato il latte cioè è nato il latte con lo conosciamo noi oggi prima il latte non era così non era la portata di tutti il latte è di lì è nato lo yogurt lo yogurt a roma e lo yogurt è nato nella cantina del castello torri in pietra è un bellissimo libro che racconta questa storia e che probabilmente anche questo presenteremo nel nel futuro perché è la storia della storia del la storia del cibo si coniuga con la storia delle persone perché le persone ovviamente nutriendosi hanno fatto la storia la storia del del nostro territorio e quella noi lo vogliamo eh valorizzare perché non perché siamo amanti non solo non significa vecchio lo dichiaro subito lo significa significa una concentrazione e io ritorno sulla parola cura significa la cura e quindi noi vogliamo curare la nostra storia perché curare la nostra storia e curare noi stessi e quindi e curare soprattutto il futuro di questa di questa città e io sono contentissimo che ci siete anche se tanti giorni perché uno dei miei obiettivi personale da fiduciario della condotta è quello di di abbandonare a più presto il mio ruolo per affidarlo a uno di voi a qualcuno di voi a chi lo vorrà fare per far sì che la condotta diventi veramente un elemento di novità di novità assoluta grazie domenico per essere venuto qui in studio e per averci dato l'onore di essere i primi grazie a te maria grazie alla radio e gli amici della radio che ci hanno consentito di di portare i nostri temi a tutti quanti gli ascoltatori grazie a tutti un saluto ai nostri spettatori vi aspettiamo alla prossima il come dove quando lo scoprirete soltanto se andrete a vedere il sito di web live tv punto it e alla prossima